Un po' di sale, un po' di sale, un po' di sale Si mettono in là, e con i soldi, mi fanno filmato Si, ma io lo so che è al video che è Quante gocce, quante gocce? Dieci gocce... Allora, più colo, è quel che ti omet quella cultura militare Non lo scelta Oh, questo io ha l'eretto compito, Fellini Fellini ha l'eretto compito, questo è Quello di filmare Quello di filmare è l'eretto compito Si, perché adesso tanto c'è i numeri di tutti adesso Ma l'originale? E' l'originale quello di film Ah, è l'originale O l'originale